Ciao amiche e ciao amici, qual è il trucco per farlo innamorare? Il trucco per farlo innamorare è soltanto uno, essere una donna imprevedibile, essere una donna carismatica, essere una donna piena di fascino, saper alternare, diciamo, il possesso, cioè farlo sentire, far sentire l'uomo al centro della tua vita, farlo sentire al centro di tutti i tuoi interessi e poi man mano togliere, sapere gestire la sessualità nel modo giusto, che vuol dire sapere incarnare le sue fantasie, quindi saper cogliere quali sono le sue fantasie erotiche che possono svilupparsi attraverso i feticismi, ma anche attraverso situazioni particolari, abbigliamenti particolari, saper essere femminile e non essere, diciamo, non eccedere nella confidenza, perché nel momento in cui eccedi nella confidenza, e questo avviene soprattutto nelle convivenze, per questo che le convivenze spesso ammazzano un po' i rapporti, perché l'altra persona, vivendoci sempre assieme per lungo tempo, vede situazioni che svelano, come dire, tolgono il velo dal tempio, levano il mistero, perché magari vedi l'altra persona in situazioni che ne so, addirittura ci sono certi che condividono il bagno in comune, condividono situazioni, diciamo, di depilazione o make-up vari in comune. Tutto questo, diciamo, va a uccidere quello che è il mistero, va a uccidere quello che è il fascino e crea una sorta di identificazione abbastanza nefasta per la seduzione, perché viene identificata fondamentalmente come una sorella, viene identificata come una mamma, tra virgolette, e quindi, anche perché se poi lei vede te in situazioni, diciamo, se tu lo vedi in situazioni, diciamo, di natura fisiologica, diciamo così, e questo è quello che fa una mamma fondamentalmente con il suo bambino, per cui vieni percepita in questo modo, e per cui decade subito, rapidamente, ma molto rapidamente, tutto l'aspetto passionale, tutto l'aspetto erotico, e quindi l'innamoramento. Cioè, esiste, continua a resistere la parte legata, come dire, all'affettività, ma non potremmo più dire che è innamoramento o che è amore, tra virgolette, diventa più una sorta di amicizia fraterna, per cui spesso, appunto, il decadimento delle relazioni, ma non a causa, diciamo, di litigio, di cose che non funzionano, proprio a causa di un'eccessiva confidenza, si trasformano in amicizia fraterna, diventa quasi un compagno, come dire, con cui andare a fare una scampagnata, andare a fare la camminata, la passeggiata, ma si perde tutto quell'aspetto, invece, di erotismo, che comunque è molto importante per mantenere una certa tensione. Ecco, per mantenere vivo il trucco per farli innamorare è quello di mantenere una certa tensione. Soprattutto, diciamo, farli innamorare e mantenere l'innamoramento nel tempo, perché spesso accade che una donna riesce anche, magari, a coinvolgere a far innamorare un uomo, però poi, dopo un po', questo non è più tanto coinvolto. E quando è che inizi a capire che avviene questa sorta di mutazione, diciamo, quasi mutazione genetica? Beh, quando lui con te si comporta come si comporterebbe, diciamo, non dico un fratello, però inizialmente i primi segnali, come se fosse del matrimonio di lunga data, per cui, anziché fare delle cose interessanti, vedermi per delle cose interessanti, lui se ne arriva a casa, si butta in pantofole, si stravacca sul divano, magari fa sesso, ma lo fa con minor fantasia, insomma, diventa tutta un'abitudine, una routine, non ci sono più uscite, non c'è più tensione. Fondamentalmente questi sono i primi segnali, che se non vengono colti, poi alla lunga portano, diciamo, all'introduzione, all'interno della coppia, di un terzo elemento, normalmente un elemento trasgressivo, che va, diciamo, a riequilibrare un po' il tutto e quindi si iniziano a sviluppare i primi amanti, i primi tradimenti. Per cui è meglio evitare dall'inizio tutto questo. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposte. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, metti sotto un like, un mi piace e condividilo, farlo girare con tutti i tuoi amici. Ciao!